Per la serie Lezioni di Vita voglio condividere una mia considerazione su un atteggiamento molto diffuso tra le maestranze che incontro sui sette indipendenti, specialmente nelle autoproduzioni, dove a volte c'è anche chi partecipa a titolo gratuito. In sostanza quello che sento è una roba tipo per una paga così bassa non mi sbatto di certo, oppure in riferimento al regista neanche mi paga, figuriamoci se resta un'ora in più. Io lo trovo un atteggiamento completamente assurdo. Capirei se è una cosa simile la dicesse un operaio che passa le giornate al trapano a colonna, che non può trarre alcuna soddisfazione dal proprio lavoro ed è lì solo per la pagnotta. Ma un fonico no, non lo capisco. È proprio perché non c'è una paga che dovresti voler fare il miglior lavoro possibile. Se non c'è un profitto monetario, è solo dalla buona riuscita del film che puoi trarre qualche soddisfazione e un qualche vantaggio. Quindi al limite dovresti ragionare proprio in senso opposto. E se non vuoi accettare una paga inferiore a quella che reputi giusta, va benissimo. Non accettare il lavoro. Oppure fai presente subito, in fase trattativa, che se vieni pagato al 50%, lavori al 50%. Quindi certe cose non le fai allo scadere delle 9 ore e comunque sia andata a stacchi. Altrimenti a un ragazzo che si sta finanziando il suo primo cortometraggio, coi soldi messi da parte in due anni lavorando come fattorino, te stai facendo un danno serio. Per te sono solo 100 euro in più che ti metti in tasca, che tanto in quei giorni eri libero. Ma lui a quel cortometraggio ci sta lavorando da due anni. E finite le riprese ci lavorerà ancora per mesi. Per lui quella è una roba importante. E se noi non siamo in grado di rispettarla, non dovremmo farne parte. E in ogni caso, per quanto mi riguarda, se questo è il tuo atteggiamento verso il lavoro, dovresti seriamente considerare di passare il tuo tempo davanti a un trapano a colonna piuttosto che sul set. E in ogni caso, per quanto mi riguarda, non dovremmo farne parte. E in ogni caso, per quanto mi riguarda, non dovremmo farne parte. E in ogni caso, per quanto mi riguarda, non dovremmo farne parte.